Ha presentato una delibera per far fronte ai disagi che probabilmente in termini economici avranno le famiglie che vivono condizioni di disabilità oppure hanno persone in difficoltà in famiglia. Noi abbiamo preso spunti innanzitutto dai pesantissimi tagli che per la prima volta il Comune di Fano porta al settore del sociale. Mezzo milione di euro tagliate al settore del sociale dalla Giunta Seri in questa città. Secondo noi è gravissimo. Durante la votazione del bilancio io ma anche altri consiglieri di minoranza abbiamo cercato attraverso degli emendamenti di riportare fondi a questo settore. Sono stati tutti bocciati. L'ultimo consiglio comunale, la stessa maggioranza, ha portato in votazione un ordine del giorno che dà una linea di indirizzo all'amministrazione comunale di ripristinare dei fondi. Tant'è che è passato l'unanimità, l'ho votato anch'io, però sappiamo che un ordine del giorno è un atto di indirizzo, è un invito, non è di fatto creare per davvero un fondo con dei soldi dentro. Allora ho avuto l'idea e ho presentato come primo firmatario, ma la cosa che mi rende molto felice è che tutti i consiglieri di minoranza insieme a me l'hanno sottoscritta, di una proposta di delibera che dovrà andare, andrà in consiglio comunale in votazione, che riporta dall'ambito del settore del personale, cioè di nuove assunzioni che l'amministratore comunale di Fano intende fare nell'anno 2016, sposta 200 mila euro nell'ambito del sociale, settore degli anziani, settore delle famiglie in difficoltà, settore dell'ambito della disabilità, in modo da poter rimettere in circolo dei fondi che ridiono fiato ad un settore che in questo momento sta soffrendo tantissimo. Infatti vediamo tante famiglie che sono venute anche in consiglio comunale a protestare, questa è una cosa che non era avvenuta mai a Fano a memoria mia, non c'erano mai state delle proteste eclatanti da parte delle famiglie degli stessi ragazzi e ragazzi diversamente abili. Noi riteniamo una cosa gravissima, un settore prioritario, assolutamente da tenere in maggior considerazione di quello che sta facendo l'attuale amministrazione.